ciao a tutti oggi vediamo come affilare il coltello utilizzando la pietra pietra che va messa a mollo secondo l'azienda per almeno dieci minuti c'è gente che la fa stare dieci ore 24 ore fate voi qui vi consiglio sempre di leggere i consigli dell'azienda così non sbagliate dieci minuti almeno sono sufficienti se lo fate un'ora prima anche meglio quindi adesso la metto a mollo se vi avvicinate vi faccio vedere il coltello che non ha più bene il filo che era un po che dovevo affilarlo la ditta mi ha mandato la pietra sei mesi fa io non ho avuto tempo di fare il video prima lo faccio a quale aperto così c'è tanta luce il problema che c'è anche un po di vento allora adesso vi avvicinate vi faccio vedere la lama poi vi faccio vedere cosa c'è all'interno della nostra confezione spero riuscite a vedere perché con il telefono un po complicato se vedete il filo in alcuni punti a tipo delle mancanze tipo dei dentini questi saranno quelli che noi dovremo andare a togliere quindi adesso vi faccio vedere che non taglia faccio la prova della carta mi dovete poi spiegare chi è che taglia la carta comunque non non ce la fa neanche se un po la prende ma non è proprio così la mia prova migliore non è quella della carta che non mi interessa ma quella del pane la pagnotta vedete non taglia questo non è un coltello da pane però se fosse affilato dovrebbe tagliare anche questo invece no quindi adesso andiamo a filarlo prima vi faccio vedere cosa c'è all'interno della scatola qui nella confezione abbiamo una base oltre alla base abbiamo una guida che serve per affilare il coltello a 15 gradi che l'inclinazione migliore e poi quando avete utilizzato la pietra per un po di volte inizierà avere qualche imperfezione con quest'altra pietra andiamo a levigarla così che la nostra pietra è sempre in piano e rimane comodo per fare l'affilatura non facciamo errori non ci facciamo male e via dicendo allora questa guida va montata in questa maniera così noi ci appoggiamo sulla guida e riusciamo a fare un filo a 15 gradi la pietra due lati uno più poroso e l'altro più fine da che numero si parte dal numero più piccolo quindi qualsiasi pietra che compriate che questa qui e 400 da un lato e mille dall'altro ci sono altre che sono mille da un lato e 6.000 dall'altro lato pietra che arrivano fino a 9.000 quindi regolatevi voi questa è una pietra da utilizzare in casa tanto non è che dovete fare delle dimostrazioni o sushi tutti i giorni e roba del genere allora la pietra deve essere bella bagnata la posizioniamo nel nostro supporto controllo solo che si sia bagnata per bene e poi andiamo a passare il nostro coltello una decina di passate per lato poi giriamo la pietra e di nuovo una decina di passate dall'altro lato come va mosso il coltello adesso ve lo mostro ricordatevi la pietra sempre bagnata potete bagnare anche il coltello se siete più comodi e adesso dopo aver fatto 10 15 passate giriamo la pietra e facciamo la stessa cosa dall'altro lato se poi siete avete più confidenza potete anche rimuovere il tutore e farlo a mano libera girando magari il coltello così tipo io da un lato sono più comodo da questo lato pensavo peggio però sicuramente con il tutore è riuscita a tenere un'inclinazione di 15 gradi affilato il nostro coltello non ci resta che provarlo asciughiamo bene io andrò a tagliare di nuovo la carta e poi il pane colgo l'occasione per ricordarvi che sotto nella descrizione del video trovate il link per comprare sia i coltelli che la pietra con uno sconto del 15 per cento quindi vedete voi se invece l'avete già comprati l'avete usati vi incoraggio a lasciare il vostro commento e naturalmente i vostri consigli per l'affilatura dei coltelli ma naturalmente quello che interessa a me è il pane prova del pane a me è Grazie a tutti.